Non toccate il frizzolone, Fabrizio denuncia la polizia postale, con mia figlia hanno superato il limite della decenza. Qualcuno ha creato un profilo Instagram falso spacciandosi per il presentatore. Ma quando ha iniziato a pubblicare le foto della figlia è meno. Lo sfogo di Fabrizio Frizzi fa riflettere. Il conduttore di Rai 1 ha denunciato sia la polizia postale che pubblicamente un profilo fa che ha suo nome che da qualche tempo gli sta procurando non pochi problemi. Di fatto Frizzi ha scoperto un account falso di Instagram su cui qualcuno pubblica foto anche della sua famiglia. Adesso il profilo fa che è andato oltre e ha pubblicato una foto della figlia di Frizzi. Un gesto che ha scatenato la reazione del conduttore stufo di dover ritrovare online immagini della sua vita privata. E così dopo aver chiesto con regolare denuncia la chiusura del profilo, il conduttore dell'eredità ha deciso di sfogarsi su Facebook, su Instagram esiste un mio profilo fate. Ho fatto regolare denuncia ma non è successo niente. Poi la foto della figlia, l'unica postata da Frizzi qualche anno fa con una divascalia apparsa sul profilo fa che che racconta invece della nascita di pochi giorni fa di un altro figlio. Questo gesto ha fatto infuriare il conduttore che ha deciso che ogni limite alla decenza è stato superato. Adesso Frizzi ha allertato tutti i suoi contatti perché non cadano nel tranello del profilo fa che credendo alle fa che news sulla sua vita privata che qualche burlone si sta divertendo a postare. Ciao!